domenica 27 dicembre buongiorno ben ritrovati con la nostra informazione partono stamattina le vaccinazioni anti covid anche in molise 50 le dosi che verranno somministrate e si inizia con medici del cardarelli e rsa pasquale di bello è andato sul posto per documentare sono appena arrivati i vaccini all'ospedale cardarelli di campo basso una giornata simbolica siamo emozionati ha detto il direttore florenzano che abbiamo intervistato qualche minuto fa scortati dall'esercito italiano ma con la presenza di polizia guardia di finanza e carabinieri sono arrivate le prime 50 dosi destinate al molise sulle 9.750 destinate all'italia del vaccino pfizer biontech verranno partiranno le somministrazioni intorno alle 8 e 30 i primi ad essere vaccinati saranno il dottor romeo flocco del primario del reparto di anestesia rianimazione e l'infermiera di malattie infettive claudia marcucci sono arrivati i vaccini una giornata simbolica e comincia qui la risalita contro il coronavirus poi vi daremo altre informazioni nel telegiornale del 14 intanto nell'ultimo bollettino diffuso dall'asrem è stato segnalato un nuovo decesso si tratta di un uomo di 57 anni di san martino in pensili se l'uomo era ricoverato a malattie infettive del cardarelli le vittime dall'inizio dell'emergenza salgono a 182 pochi i tamponi processati solo 48 ed è stato riscontrato un unico unico caso positivo si tratta di una persona di campo basso 4 nuovi ricoveri a malattie infettive mentre due sono i pazienti che sono stati dimessi attualmente i ricoverati a malattie infettive sono 55 a terapia intensiva sono 8 non paga e continuerà a non pagare le soste blu la vicenda di felice antonio di schiavi ex ufficiale della polizia urbana di sernia sta assumendo toni quasi grotteschi se non comici dall'inizio l'ex vigile è sempre stato convinto che le soste a pagamento siano un abuso ai danni dei cittadini tanto che ad ogni multa che gli viene fatta fa ricorso prima al prefetto poi al giudice di pace che puntualmente gli danno ragione sentiamo Enzo di Gaetano la vicenda delle soste a pagamento a esernia sta diventando una storia grottesca una storia su cui comunque ci vuole la massima trasparenza anche perché se ne sta interessando la magistratura bisogna capire perché siano stati concessi tanti posti auto alla aj mobilità e capire anche se sia vero che a oltre un anno dall'avvio del servizio delle soste a pagamento il contratto con la concessionaria non sia stato ancora firmato dal segretario comunale che è dirigente di fatto del servizio cosa che da sola potrebbe mandare gambe all'aria un appalto che finora la aj mobilità non avrebbe neanche onorato fino in fondo infatti bisogna capire perché il parcheggio sotterraneo di via bertha ancora non parte e bisogna capire se sia vero o no che non sia stato ancora versato dalla ditta il canone annuale previsto dal capitolato insomma tante domande a cui bisogna dare una risposta proprio per togliere le ombre su una questione così delicata intanto c'è chi sicuro della illegittimità della concessione continua a non pagare le soste blu e continua a fare ricorso a prefettura e magistratura e non è un automobilista qualunque è un ex ufficiale dei vigili urbani che si dichiara certo delle sue ragioni l'ex tenente felice antonio di schiavi che ha già accumulato una quarantina di multe me ne hanno fatte parecchie me ne stanno continuando a fare no no io devo parcheggiare ho il diritto di parcheggiare non devo pagare perché non sta scritto da nessuna parte questa somma da pagare poi è tutto illegittimo come abbiamo già detto e dimostrato c'ho la sentenza le sentenze del giudice che mi hanno dato ragione hanno condannato il comune di sernia ma perché devo pagare devo ancora pagare scusate ma se ho vinto già perché devo pagare io ritengo che è una estorsione pretendere i soldi da chi parcheggia negli stalli blu a isernia pretendere i soldi per parcheggiare in di fronte a delle sentenze del giudice di pace che ha condannato il comune di sernia il 2021 anno delle ferrovie per l'europa e l'editore di termoli stefano leone dopo una lunga ricerca negli archivi storici ha ideato e il calendario europeo delle ferrovie un'iniziativa internazionale di straordinario livello culturale di promozione per il molise e per l'italia sentiamo manuela iori il 2021 anno in cui l'europa celebra le ferrovie l'editore di termoli stefano leone ha ideato e realizzato un calendario internazionale proprio sulle ferrovie un lavoro approfondito di ricerca negli archivi storici che ha dato vita al progetto editoriale vis dove tra le foto dei convogli e delle stazioni di grecia spagna e ungheria c'è anche quella che ritrae termoli nei primi del novecento ferrovie intese come mezzo sostenibile sicuro innovativo tecnologico ma l'aspetto riguarda anche una questione più intima ogni volta che si affronta un viaggio anche in treno sia una speranza è come se si rinnovasse un progetto da condividere da portare a termine il calendario è tutto in inglese ha la copertina realizzata ad hoc dal grande maestro francesco toraldo e la presentazione dello storico monistano antonio d'ambrosio ed è stato già inviato seppur stampato in poche copie a tutte le cancellerie europee ed è in lingua inglese c'è un grande patrimonio storico fotografico cosa si troviamo all'interno del calendario si sono rappresentati 12 stati che fanno parte dell'unione europea attraverso un percorso iconografico che attiene al tema delle ferrovie quindi stazioni treni persone il valore umano è documentato ampiamente attraverso immagini recuperate negli archivi di tutto il mondo lei ha scritto anche due libri proprio sulle ferrovie di termoli sì era intuibile che l'unione europea dedicasse prima o poi un anno al tema delle ferrovie e quindi contestualmente anche se saranno presentati più in là ho portato a termine una lunga indagine che durava da dieci anni inerente le ferrovie della mia città di termoli e i due volumi si chiamano noi storia le ferrovie a termoli ed è tutto per l'informazione andiamo ora alla rassegna stampa con massimiliano chiocchio dalla regia iniziamo con il giornale del molise.it covid ancora una vittima un 57enne di san martino in pensilis appena 48 tamponi un solo positivo poi oggi partono i vaccini tutto pronto al cardarelli primo vaccinato il dottor romeo flocco natale 2020 pochi regali sotto l'albero un italiano su tre ha rinunciato lo shopping natalizio poi maltempo in arrivo freddo su tutta la penisola allerta gialla della protezione civile nei giardini dell'afficia di termoli una colonia di gattini l'azienda ha donato le cuccette covid variante inglese individuata in un paziente di chieti è stata isolata dall'istituto zoo profilattico abruzzo molise poi vediamo altre notizie il 27 dicembre la regione festeggia l'autonomia raggiunta 57 anni fa micone un traguardo importante poi vigili del fuoco impegnati a gildone un incendio ha distrutto la copertura di un fabbricato campagna amica la solidarietà nei confronti dei nuovi poveri per i per la sezione editoriali idee e opinioni vi segnaliamo l'articolo scienza dei mezzi e sapienza dei fini di paolo frascatore lo trovate sul giornale del molise.it passiamo a futuro molise poste italiane comunica che molise le pensioni del mese di gennaio verranno accreditate a partire da lunedì 28 dicembre poi contagiati dal sorriso i piccoli della san giovanni bosco aprono le porte alla solidarietà trivento carabinieri una stella sotto l'albero per il maresciallo pietrangeli poi termoli erogazione borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2019 2020 i quotidiani nazionali il corriere della sera vaccini oggi i primi 2000 in veneto tasso di contagio da record il virus inglese spunta in tutta italia parte la campagna per l'immunizzazione il cts rivede le linee guida a rischio la stagione sciistica a londra con il passaporto cosa cambia con brexit firmato l'accordo 1246 pagine per un divorzio dopo il corriere della sera repubblica speranza il vaccino ci salverà ma serviranno altre zone rosse il ministro è un giorno di svolta saranno però ancora necessari mesi di vieti per contenere l'epidemia oggi le prime 9.750 fiale da domani 470.000 settimana entro settembre verrà protetta la metà degli italiani boom di personale no vax allarme nelle case di riposo a pompei riappare il fast food romano la riscoperta del termopolio ritrovato a pompei sono state rinvenute anche pentole in coccio con resti di cibo dopo repubblica vediamo l'apertura della stampa l'italia la sfida della vaccinazione il cts sei mesi per piegare il virus oggi al via in tutta europa la campagna anti covid contagio in salita a rischio lo sci il 7 gennaio poi anche qui la notizia di pompei riemerge lo stray food di 2000 anni fa la scoperta del termopolium dopo la stampa vediamo il fatto quotidiano variante inglese tutti asintomatici falsi allarmi clementi più contagiosa meno pericolosa il giorno dei vaccini il virologo nessuna preoccupazione in più batteremo il virus nel 2021 oggi i primi medici e infermieri vaccinati in tutta l'unione europea arcuri 10 milioni di dosi entro marzo poi air force renzi voli abusivi senza certificazioni dell'unione europea nell'inchiesta di civita vecchia sul mega spreco dal fatto quotidiano ad avvenire eppure è storia d'amore questo è il titolo il papa gesù è nel volto dei poveri l'appello per i bambini che soffrono in medio oriente nel mondo i cristiani mai così perseguitati in nigeria boko a ram attacca 11 vittime una chiesa in fiamme il giorno del vaccino nell'unione europea sci solo con norme severe oggi prime dosi tre paesi anticipano nelle feste di vieti rispettati domani è arancione poi brexit l'addio di londra sacrifica l'erasmus firmata l'intesa a contraccolpi possibili continuiamo con la stampa nazionale il mattino vaccino la partenza show oggi il v day in tutta europa si inizia dai medici la campagna di massa solo in primavera in campania distribuite 720 dosi capo di chino in sei sbarcati da londra con il nuovo covid tamponi in nero 50 euro per un test a casa napoli infermieri dell'asle coinvolti nella truffa esami pirata in cambio di soldi per abbattere i tempi poi pompei il fast food di 2000 anni fa nuova straordinaria scoperta riaffiora un termopolio intatto l'apertura del tempo in classe il record dei contagi elementari fuori controllo dalla chiusura delle scuole la fascia d'età tra 0 e 9 anni alla crescita record del virus mentre facendo lezione a casa crollano i rischi per i ragazzi delle superiori e dell'università non basta cambiare trasporti per riaprire tutto il 7 gennaio perché l'infezione è nelle aule questo era il tempo il manifesto titola vax pensiero oggi in europa e in italia il v day il vaccino è arrivato allo spallanzani di roma l'obiettivo ora è somministrarlo al personale sanitario un milione e quattro di persone e a 570 mila tra medici e ospiti del rsa il tasso di positività però rimane alto al 12 virgola 8 per cento ieri 261 le vittime oggi alla camera da lunedì al senato la legge di bilancio fiducia di corsa dal manifesto andiamo al andiamo al libero il vaccino c'è ma è poco così titola libero non basta neanche per iniziare via le inizioni cominciano i problemi il lazio denuncia che le consegne sono in ritardo noi abbiamo solo 10 mila dosi contro le 150 mila della germania e 350 mila della spagna da libero alla verità le mascherine di arcuri 4 milioni ad un pluri denunciato per truffa mario benotti indagato per le forniture segnalò via mail l'equadoriano org e solis il cui avvocato dice i contatti in cina suoi è mediatore di tutto doveva aprire un cannabis shop e gli arrivano 3 milioni e 800 mila euro dopo la verità vediamo il secolo di italia che titola dai giornaloni anche a natale il solito veleno contro salvini e centro destra il leader della lega omilia fatto e repubblica questo era il secolo d'italia vediamo ora il sole 24 ore pensione i piani del governo per l'uscita da quota 100 allo studio il ritiro a 64 anni con 38 anni di contributi soglie più basse per i lavoratori gravosi atteso oggi l'ok della camera la manovra con proroga di un anno per ape sociale e opzione donna nel recovery plan investimenti aggiuntivi in crescita di 15 miliardi e 3 brexit il muro alzato dall'unione europea contro la concorrenza sleale dalle notizie economiche andiamo alle notizie sportive la gazzetta dello sport titola milan a tutto gaz il nostro forum con di rosso nero ivan gazidis poi pippo aspetta il diavolo arriverà in fondo domenica prossima in zaghi sfiderà la sua ex squadra sulla panchina del sorprendente benevento poi nuoto parla la pellegrini stella fede dura smaltire il covid ma ora tutto per tokyo ancora calcio inter parede su un pochettino più vicino mercato nero azzurro nel vivo e poi juve nel 2020 nessuno in gol come ronaldo oggi premiato a dubai con il globe soccer dopo la gazzetta sportiva concludiamo il nostro appuntamento con l'informazione la rassegna stampa l'informazione di tele molise torna alle 14 grazie per l'attenzione buona domenica e buona giornata